Queste sono 20 sterline e fin qua direi che ci siamo. Se le giro continuano a essere 20 sterline, 5 anni fa erano 20 sterline, oggi sono 20 sterline e fino a qua direi tutto bene. I problemi arrivano quando vogliamo trasformare queste 20 sterline in euro, che è la valuta che usiamo noi tutti i giorni. Infatti 20 sterline corrispondevano 5 anni fa a circa 27 sterline. Anche qui direi che ci siamo. Il problema è che sono trascorsi 5 anni e oggi 20 sterline valgono 22 euro. Cosa è successo? Questa cosa si chiama effetto cambio ed è fondamentalmente la variazione tra le due valute, in questo caso sterlina e euro. E in questo caso è stata parecchio importante perché 5 euro su 20 sterline è tanto e quindi è perfettamente comprensibile che le persone abbiano paura del cambio valuta. Al punto che tendono ad evitare assolutamente tutti gli investimenti che non sono in euro. Ma è giusto comportarsi così? Quanto c'è di fondato in questa paura? E soprattutto si può gestire in qualche modo il rischio cambio, l'effetto delle variazioni nelle valute? Di tutto questo ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e oggi finalmente parliamo del rischio cambio. Perché ho notato che su internet non se ne parla molto ma è qualcosa di importante da sapere quando si investe. Non serve che io appunto vi spieghi quanto è rilevante all'interno del nostro portafoglio, l'abbiamo appena visto con solo 20 euro. Figuriamoci quando si parla di portafogli da 20-30 mila euro. Ma perché sto continuando a ripetere euro e non un'altra valuta? Fondamentalmente perché gli euro sono la valuta che usiamo noi, noi questi usiamo per pagare e non altre valute. Quindi è fondamentale sapere come si comporta il nostro portafoglio in euro. E questo è un passaggio assolutamente indispensabile perché appunto noi non possiamo andare al supermercato o a comprare casa con le sterline o con i dollari. Ma dobbiamo sempre sapere quanto vale il nostro portafoglio in euro. E con questo non voglio assolutamente dire che bisogna comprare quindi solamente in euro, solamente aziende italiane o al massimo, al massimo europee. Ma significa che dobbiamo prestarci attenzione. Dobbiamo quindi essere pronti a sostenere delle variazioni all'interno dei cambi, variazioni che nell'esempio di prima erano a nostro svantaggio ma che possono anche essere a nostro vantaggio. Quindi prima domanda che tutti si fanno, si può evitare il rischio cambio? Per esempio esistono tantissimi titoli americani quotati sulla borsa italiana e quindi sono quotati in euro. Comprando questi titoli ci si può proteggere dal rischio cambio, in questo caso del dollaro? La risposta purtroppo è no. Tanto per cominciare un titolo quotato sulla borsa italiana come Apple certamente sarà in euro ma non ci protegge dalle variazioni del dollaro. Perché Apple è sempre quotata originariamente in dollari. Quindi noi ci stiamo semplicemente risparmiando la trafila di dover cambiare in dollari per poi ricambiare in euro. Tutto qui. Ma all'atto pratico se noi abbiamo un'azione Apple e il dollaro va giù del 10%, l'azione Apple in euro andrà giù del 10%. Quindi non possiamo proteggerci comprando su borsa italiana. Se volete sapere allora qual è il senso di andare a mettere delle azioni americane sulla borsa italiana, ci ho già fatto un video, ve lo lascio qui in alto, dove andavo a spiegare appunto come mai alcune aziende decidono di quotarsi su tante borse diverse, che è una pratica molto comune. Ma allora non si può evitare il rischio cambio. In realtà un modo c'è e si chiama edging o in italiano copertura. Se ci pensate, voi quando state comprando un'azione o un qualsiasi asset in un'altra valuta, state automaticamente sperando che quella valuta si apprezzi nei confronti dell'euro. Se infatti si deprezza, voi è vero che state detenendo un'azione, un'obbligazione, quello che è, ma quella roba lì è in dollari, in sterline, in una valuta estera. E quindi se quella valuta estera perde potere d'acquisto rispetto all'euro, nel momento in cui voi andate a ricomprare euro, ci avete perso. Quindi come si fa a evitare il rischio cambio? Beh, dovete automaticamente avere in portafoglio un altro strumento che vada contro la valuta che state detenendo. Se avete in portafoglio un'azione che vale ad esempio 100 dollari, significa che per compensarla dovete avere una posizione al ribasso verso il dollaro di 100 dollari. In modo tale che se il dollaro si deprezza, voi avrete quella posizione in portafoglio che compensa le due cose. Allo stesso modo però non potete sperare che se il dollaro si apprezza ci guadagnate, perché comunque vi state proteggendo e quindi andrete a eliminare questo potenziale rendimento. Ci sono mille strumenti per farlo, dai future alle opzioni, agli swap, insomma veramente avete l'imbarazzo della scelta. Ma qual è il punto? È che fare tutta questa roba ha un costo. Può essere un costo opportunità, dato dal fatto che state usando parte del capitale per coprirvi, capitale che non state usando per altro. Può essere un costo in termini di interessi, perché magari per non usare tanto capitale volete usare una leva molto alta, e allora dovrete automaticamente pagare degli interessi. Insomma, non si può fare questa operazione di copertura gratis. Se siete dei fondi, delle banche, degli istituzionali potete farlo a un costo molto 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 basso. Ma se siete dei piccoli investitori questo costo sarà decisamente alto. E ho trovato anche un articolo, che vi metto ovviamente in descrizione, che fa vedere come il costo per coprirsi in euro è aumentato tantissimo negli ultimi anni, ed è arrivato addirittura al 2-3% annuo, che è una follia. L'unico modo che noi investitori piccoli possiamo andare a utilizzare per coprirci all'interno del portafoglio sono degli ETF con copertura valutaria. Se andate per esempio sul sito JustETF e spuntate la sezione con copertura valutaria, avrete tutta una serie di ETF coperti per il rischio cambio. Quindi sarete esposti esclusivamente all'euro. Ma anche in questo caso andrete a pagare dei costi in più, molto molto bassi, ma ci sono dei costi. Il modo che io personalmente ritengo più semplice quindi per andare a ridurre, visto che abbiamo capito che eliminarlo non si può ridurre il rischio cambio, è diversificare le valute all'interno del proprio portafoglio. Avere quindi tutte o comunque le principali valute all'interno del portafoglio è un'ottima cosa, perché chiaramente se ad esempio l'euro si deprezza, voi avrete in portafoglio anche il dollaro, lo yen e così via, e viceversa. Attenzione però, lo dico proprio a caratteri pubitali, attenzione alle valute minori, come non lo so, la lira turca o cose del genere, perché quelle sono valute molto rischiose da avere in portafoglio e in quel caso bisogna mandarci veramente con i piedi di piombo. Prima di salutarvi però devo dirvi una cosa importantissima, veramente frestate molta attenzione a questa cosa perché vedo che tanti investitori non la conoscono oppure non hanno ben capito questo meccanismo. Esiste anche una sorta di rischio cambio o effetto cambio nascosto, quindi è possibile che voi ad esempio acquistate un'azione sul mercato italiano, un'azione italiana e comunque avete un rischio cambio notevole. Com'è possibile? Mettiamo un attimo da parte il prodotto finanziario, l'azione, e concentriamoci su quello che sta sopra, l'azienda. L'azienda ha un fatturato, ha dei ricavi, realizza delle vendite, ha dei clienti, insomma è un'entità che vende, che vende prodotti, servizi, e noi dobbiamo sempre chiederci a chi vende e con che valuta comprano quelli che stanno comprando. Esistono aziende italiane, tipicamente quelle del lusso come Moncler o Ferragamo, aziende quindi italianissime che hanno circa il 40% del loro fatturato in Cina e quindi il 40% del loro fatturato è in Yuan. Quindi dovete automaticamente sapere che comprando una di queste aziende non siete al riparo dal rischio cambio, ma siete esposti comunque al rischio cambio. E vediamo un attimo anche di capire nel dettaglio come mai. Immaginiamoci ad esempio che il renminbi o Yuan, chiamatelo come vi pare, la valuta cinese in sostanza, si deprezzi tantissimo nei confronti dell'euro. A questo punto l'azienda ha due possibilità, o lasciare tutto così com'è, ma a questo punto i loro prodotti saranno molto più cari per il mercato cinese e quindi probabilmente ne venderanno di meno e il fatturato calerà. Opzione numero due, adattare i prezzi, quindi scendere con i prezzi in modo tale da mantenere abbastanza a livello la domanda, ma anche in questo caso se si vende a prezzi più bassi il fatturato cala. Quindi capite bene che anche se il titolo è italiano, anche se è quotato in euro, se è sulla borsa italiana, non siamo automaticamente al riparo dal rischio cambio. Bisogna sempre andare a capire cosa c'è dietro. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento qua sotto, se avete dubbi ovviamente la sezione commenti è fatta apposta per le domande. Ovviamente lasciate un like se il video vi è piaciuto e ricordatevi di passare da Instagram, vi lascio il profilo qui in alto, passate a farmi un saluto. Per questo video è davvero tutto, io vi ringrazio di nuovo per aver visto il video fino alla fine e alla prossima! Iscriviti al canale!